Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrada di Trebi Meteo. La settimana appena conclusa si è rivelata particolarmente mite su buona parte dell'Europa e come vedete dalle immagini alle mie spalle, che si riferisce appunto alle anomalie di temperature elaborate dalla NOA, notate per l'appunto come soprattutto sull'Europa centrale ci sia una chiazza rossa che appunto evidenza anomalie termiche anche di oltre 8-10 gradi, quindi temperature sopra le medie anche di appunto oltre 8-10 gradi e pensate che sono state raggiunte punte fino a 24-25 gradi se non localmente superiori tra Francia, Germania e Belgio e quindi appunto valori termici più consoni al mese di maggio, notate inoltre come le temperature siano risultate sopra le medie del periodo anche in Italia sebbene in misura minore. Andiamo a vedere quanto è piovuto e come vedete le precipitazioni sono risultate piuttosto scarse su buona parte del comparto europeo centro-orientale mentre è piovuto decisamente di più sui settori appunto atlantici, quindi vedete tra Irlanda, Galles, Spagna, parte della Francia ma anche sul centro-sud italiano e questo infatti è consistente con una configurazione barica per la quale abbiamo avuto frequenti perturbazioni ad oveste e frequenti invece alte pressioni sul comparto centro-orientale del vecchio continente. Bene, per adesso mi fermo qui e per sapere le previsioni per i prossimi giorni in Italia ma anche in Europa, mi invito a consultare il sito trabimeteo.com